Ora è il momento però di accogliere, salutare il nostro ospite di oggi, quindi diamo il benvenuto all'Innovation Manager Max Ciuffreda. Benvenuto Massimo. Buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, come hai visto siamo seguiti dal nord al sud d'Italia, in realtà dal nord ancora non arrivano messaggi stamattina, ma siamo fiduciosi. Con calma. Sì, sì, sì. Siamo felici di poter condividere con il nostro pubblico da casa la tua storia, che è una storia bella, prima dicevo una storia fantastica, perché è essenzialmente una storia di ritorno. Ritorno perché tu a un certo punto della tua vita hai lasciato la tua città natale, che è mattinata in provincia di Foggia, sei partito, ci spiegherai perché tu stesso, poi dopo aver trascorso diversi anni a Bologna hai deciso di ritornare. Ma facciamo le cose con ordine. Innanzitutto dici chi è e cosa fa un Innovation Manager, come lavora un Innovation Manager. Grazie, grazie a te, intanto è un piacere essere qui oggi. Allora, l'Innovation Manager è difficile definire questa figura, che può sembrare, sai, una di queste nuove figure del futuro, del presente e del futuro. In realtà la definizione viene da lontano, perché l'Innovation Manager è un esploratore, quindi viene veramente da molto lontano. Lo fa in maniera un po' diversa dal classico esploratore di un tempo, uno esploratore soprattutto digitale. Quindi non c'è un corso particolare, un percorso di studi particolare. Ecco, ci si deve un po' sentire Innovation Manager. Tanta curiosità, tanta voglia di carpire le possibilità in termini di innovazione. Sicuramente la decreazione più usata è quella della digitalizzazione, cioè la capacità di digitalizzare alcuni processi, soprattutto nelle aziende, quindi la capacità di far fare un passo avanti a chi magari ha un percorso azientale che viene anche da molto lontano. Però a me piace, ecco, immaginare quello che stiamo provando anche a fare nei nostri territori è quello anche dell'Innovatore Sociale, quindi la capacità di trasmettere il concetto di innovazione alle comunità, ai cittadini, anche attraverso la parte digitale che è parte importante per questo processo. Assolutamente sì, anche perché l'innovazione se non è condivisa poi rimane un fattore, come dire, abbastanza lontano dalla quotidianità. Invece oggi, e progressivamente sempre più, la digitalizzazione sta permeando la nostra quotidianità. Una volta c'era la distinzione tra l'online e l'offline, oggi finalmente abbiamo superato questa concezione, questa divisione, questa diatriba, perché evidentemente il digital è entrato nella nostra quotidianità a tutti i livelli, su molti piani appunto della vita di tutti i nostri giorni. Ma raccontaci come è cominciato il tuo percorso, perché io che ho studiato la tua storia so che c'è qualcosa di epico che partì da quel piccolo comune che è Mattinata sul Gargano. Sì, allora io sono partito tante volte da Mattinata, come un po' tutti noi ragazzi, per, giustamente, per studiare, per fare nuove avventure al di fuori del proprio territorio. In particolare, io dico già da grande, perché sono partito a 31 anni, che di solito è un'età in cui si sono prese già delle decisioni, per un'avventura, per questa start-up, per questa invenzione che ci portò all'epoca, subito alla ribalta, ricordo questo titolo di Repubblica, da Mattinata a Parigi, perché la nostra start-up che si occupava, e si occupa di un'azione tecnologica in questo caso, ebbe subito questo successo e ci trasferìmo a Bologna, perché arrivarono i primi investitori. E da lì è iniziata questa avventura che è vero che mi ha portato fuori da Mattinata, dal mio gargano, dalla mia terra, ma in realtà mi ha permesso di fare questo percorso molto importante, anche di consapevolezza, della capacità di poter partire, di potersi formare, di poter creare un'azienda che ha fatto cose importanti in ambito tecnologico, ma sempre con un legame forte, qui il digitale ci aiuta, con il proprio territorio. Quindi poi la capacità di trasferire anche da lontano queste competenze, questi percorsi, nei nostri territori, che credo sia molto importante, soprattutto per chi come me, in quel momento della vita ha deciso di partire. E tra qualche istante ci concentreremo sui progetti più recenti e su quel legame di cui tu facevi già accenno qualche istante fa, tra l'innovazione digitale e l'innovazione sociale. Però ecco, resterei ancora un attimo agli esordi, quando con quest'idea di impresa che si chiamava, e si chiama Uiman, avete, vi siete aggiudicati un round di finanziamento molto importante e a Bologna hai strutturato una vera e propria azienda con tanti dipendenti. Poi come accade spesso in questi anni, l'evoluzione supersonica a cui viaggiano le nostre vite ha portato molti cambiamenti dell'idea iniziale. Quindi qual era l'idea iniziale, quali sono stati gli sviluppi e poi ecco dove sei arrivato per parlare di quello che stai facendo oggi per i territori? Sì, Uiman ha avuto uno sviluppo molto importante, abbiamo raccolto, come dicevi, più di un milione di euro di finanziamento da investitori nazionali, anche importanti, da player come Telecom Italia. Siamo cresciuti, abbiamo portato il nostro prodotto in giro per il mondo, abbiamo creato un'app utilizzata da milioni di utenti in giro per il mondo. Che cosa faceva Uiman? Uiman aiutava, aiuta tecnicamente tutti gli utenti che viaggiano in giro per il mondo a navigare in wifi, in maniera gratuita. Ecco qua, a ruolo importante il tema dell'innovazione e dell'innovation manager, c'è la capacità di innovare, di rispondere a un'esigenza, quella della connettività, della capacità di rimanere in comunicazione attraverso lo sviluppo di nuova tecnologia, che abbiamo sviluppato appunto in app, capace appunto di accompagnarti in questi viaggi, perché la tecnologia in questo caso aiuta ad abbattere le distanze. Ecco, il ruolo principale di Uiman, se vogliamo parlare dell'impatto innovativo, è proprio questo, la capacità di arrivare in un posto dove non conosci nessuno, molto probabilmente perché stai viaggiando, per lavoro, per vacanza o per qualsiasi motivo, la capacità di rimanere connessi e anche di entrare in contatto ovviamente con i posti in cui consigliavamo appunto i migliori posti nelle città, nei paesi dove poter navigare. E comunque si creava un'interazione, quindi un'interazione digitale ma anche fisica perché c'era questo scambio tra chi offriva il servizio e chi attraverso l'apnea usufruiva. E quindi, ecco, mattinata a Bologna, ma in realtà la tecnologia che diventa a se stessa esploratrice, capace di portarci in realtà in ogni, abbiamo mappato più di 100 milioni di reti Wi-Fi in giro per il mondo, quindi non sono mai esistiti confini da questo punto di vista. Perché poi oggi che abbiamo un po' tutti i nostri bravi smartphone con i nostri contratti, i nostri abbonamenti e quindi tanti giga da utilizzare per navigare, poi ci scopriamo effettivamente deboli e indifesi quando magari ci troviamo all'estero e quindi questo tipo di progettualità è sicuramente un supporto molto importante. Sì, sì, assolutamente, è proprio questo. Parallosalmente il fatto di avere sempre a disposizione la capacità, diciamo, di comunicare, mettiamolo su questo punto, a maggior ragione quando siamo lontani, quando abbiamo più bisogno di avere attraverso il nostro smartphone un contatto col mondo che abbiamo lasciato e col mondo esterno, quando questo contatto non c'è, effettivamente diventa un problema. Non solo per lavoro, a volte anche per condividere, perché è uno strumento che è usato bene, ovviamente fa parte ormai della nostra vita quotidiana. E anche la condivisione di un momento particolare, bello, estemporaneo, anche se non per forza legato al lavoro, rimane importante. Come hai visto noi in diretta su Padre Pio TV, durante Just Today, interagiamo con il nostro pubblico attraverso, per esempio, i messaggi WhatsApp. Bene, Massimo, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante per poi tornare a parlare di innovazione digitale che si incontra, si sposa con l'innovazione sociale. Per cui diamo solo per qualche istante la linea alla regia, poi torniamo di nuovo insieme. Eccoci come promesso di nuovo in diretta dagli studi di Padre Pio TV, in compagnia dell'Innovation Manager Max Ciuffreda, che ci ha raccontato gli inizi del suo percorso, che da mattinata lo hanno portato. Prima a Parigi, dove ha vinto un importante premio per la sua startup Wiman e di qui a strutturare la sua azienda a Bologna. Tanti anni molto entusiasmanti, Max ha assunto diverse persone, ha lavorato con un team pazzesco in un contesto assolutamente stimolante, venendo a contatto con tanti altri imprenditori digitali che poi lo hanno portato a sviluppare altri progetti particolarmente interessanti per noi, perché come anticipavamo alla trasformazione e innovazione digitale si è associata all'innovazione sociale in grado di rendere concreti quei processi di innovazione di cui il digital si è fatto portatore. Quindi è nata la rete Anima Living Network prima e poi la collaborazione e la sinergia con il Web Marketing Festival di Rimini per la rete Habitat. Facciamo le cose per gradi e lascio a te che è il compito di condurci nel proseguimento di questo viaggio. Sì, il passaggio non è stato facile, nel senso che la pandemia ovviamente ha condizionato un po' tutti noi. Io racconto la parte positiva che mi ha riguardato. La pandemia mi ha un po' ravvicinato a un progetto che ho in mente da tanti anni, che nasceva parossalmente appena sono partito. Io parto la mattinata con tanta voglia e con tanto entusiasmo, ma quasi costretto perché il nostro territorio, parliamo del 2012 e non solo mattinata ovviamente, ma un po' la Puglia e soprattutto il nostro Gargano, la provincia di Foggia, non erano pronti ad accogliere quel tipo di percorso da nessun punto di vista e quindi un po' ecco sono stato un po' costretto ad andare via. E quindi la voglia anche di recuperare quella piccola ferita che si era creata all'epoca, in realtà poi nessun impianto ovviamente, però era rimasta e quindi la pandemia insomma mi ha dato il tempo e poi noi del team di capire che un altro percorso per i nostri territori era possibile, che qualcosa era cambiato e allora ecco qua torna il concetto di esploratore, quindi l'innovation manager, l'innovatore, fa dei percorsi di innovazione anche molto personali e quindi da qui la voglia di uscire un po' dal concetto solo di innovazione tecnologica e entrare un po' il concetto di innovazione sociale, quindi come trasferire tutto questo know-how in un impatto sociale e la capacità dei territori come i nostri di poter esprimere, accogliere, coltivare questo tipo di iniziative. Da qui nasce Anima, Anima Living Network che ha proprio questo obiettivo, cioè la capacità di far fare dei percorsi di innovazione sociale e tecnologica anche alle piccole comunità, in realtà in tutta Italia, ma se parliamo del nostro Gargano, la capacità di trattenere, di far tornare, di far progredire una comunità capace di accogliere nuove sfide. Uno dei temi più importanti, delle sfide più importanti sicuramente è quella del nomadismo digitale. Quindi ecco, l'innovazione che accoglie la contaminazione di chi oggi da tutto il mondo può venire a Mattinata, a San Giovanni Rotondo, nel Gargano, a lavorare ma soprattutto a condividere un know-how e fare un percorso di comunità insieme. Ecco, io prego la regia di lanciare sullo schermo il sito di Anima Living Network, in maniera tale grazie, in maniera tale da esplorare un po' insieme quello che il progetto si propone di fare. Come dici tu, valorizzare poi le comunità periferiche, però intraprendenti, mettere in rete le risorse, produrre quest'innovazione a partire dal basso con tutta una serie poi di microprogettualità, dalle wifi street alle borse di studio, ai servizi per gli smart worker, questa figura che abbiamo imparato a conoscere bene in questi anni, cioè quei lavoratori che hanno la possibilità di poter svolgere i propri compiti anche lontani dalla propria sede di lavoro. Sì, sì, l'obiettivo, ecco qua vediamo alcune delle comunità con cui abbiamo fatto un percorso in questi ultimi due anni, c'è tanto Gargano ma non solo, e l'obiettivo è proprio quello, io spesso noi, insomma, siamo molto fortunati che viviamo in un territorio molto bello, però la bellezza non basta, io dico fortunatamente la bellezza non basta, nel senso che per attirare, per far arrivare queste nuove figure che sono gli smart worker, che finalmente non vivono i nostri territori solo per la loro bellezza ma in maniera intenzionale, consapevole, e noi però spesso non siamo pronti ad accoglierli. E qui torna tanto il tema della formazione, le borse di studio, la capacità di attrezzare chi vive queste comunità e renderli, ecco, capaci di accogliere queste dinamiche. E si fa in due modi, uno preparando la comunità, quindi la formazione, per esempio formiamo i local manager, queste figure di interconnessione tra una comunità e gli ospiti, quindi che aiutano questo scambio di know-how. prepariamo i luoghi, i spazi di co-working, San Giovanni ne ha uno molto bello, non solo sono luoghi dove collegare un computer e avere, ecco, un po' di corrente, ma deve essere luoghi di scambio, luoghi in cui chi arriva racconta, ci siamo trovati i casi in cui chi è arrivato ha formato col suo know-how una comunità, e poi le infrastrutture. Ecco, qua torna il tema del digitale, perché l'innovazione sociale passa anche dall'innovazione digitale. Abbiamo lanciato un bellissimo progetto, che sono le social wifi street, delle strade adottate dalla comunità che tornano a vivere spesso nei centri storici e diventano digitali, con una connessione, con una presa, e quindi questi co-working al cielo aperto che aiutano proprio lo scambio, lo scambio di know-how. Ci troviamo magari in queste vie dove c'è un cittadino che legge un libro e un nomade digitale che in quel momento magari sta parlando con Google a migliaia e migliaia di chilometri. E sì, perché oggi, come anticipavamo qualche istante fa, per molti lavoratori, per poter svolgere i propri compiti, è sufficiente un pc e una buona connessione internet. Quindi, paradossalmente, anche una strada, come dicevi prima, può diventare una social wifi street dove uno smart worker, un nomade digitale, può ricavare del tempo anche per lavorare. Perché è importante tutto questo? Perché fermo restando l'importanza di viaggiare, di muoversi, diventa altrettanto importante che le nostre comunità, le piccole comunità, in maniera particolare quelle periferiche, diventino a loro volta delle destinazioni, cioè dei luoghi dai quali non si debba necessariamente solo partire, ma si possa anche ritornare e si possa accogliere quanti, per un motivo o per un altro, vogliono conoscere nuovi posti, interagire con altre comunità, collaborare, lavorare da altre parti. E questo sarebbe fantastico se riuscissimo a realizzarlo in tutta Italia, in maniera particolare nel Mezzogiorno, dal quale per tanti anni e ancora oggi si parte in massa e tante volte lasciando le proprie città di origine, le proprie famiglie e creando dei vuoti pazzeschi. L'obiettivo è proprio centrato, cioè la volontà è quella di far tornare chi giustamente, meno male che si è formato anche fuori e partito, farlo tornare non solo perché torna a casa, perché a volte quella può essere anche una piccola sconfitta da certi punti di vista, ma l'obiettivo è quello di cambiare la narrazione, dire torno a casa perché ho qualcosa da fare. Ecco, se noi riusciamo a rendere queste comunità intraprendenti, cambia il paradigma, cioè c'è da costruire, c'è da fare, c'è da accogliere. Quelle distanze, Mattinata, San Giovanni, Monte, tutto il Gargano, in questo caso che è diventato un laboratorio su questi temi, diventa un punto di riferimento, quindi è capace di accogliere chiunque, senza distinzione. Ecco, prima di salutarci, perché stiamo aggiungendo alle battute conclusive di questa chiacchierata, mi pare giusto evidenziare che il tuo lavoro svolto poi su questi territori ha portato ad essere gli stessi territori di cui stiamo parlando, quindi il Gargano in maniera particolare, ad essere attenzionato da un grande evento nazionale come il Web Marketing Festival di Rimini che ti ha coinvolto in una serie di progettualità, tra cui appunto la rete Habitat di cui parlavamo prima. Per cui il Gargano, grazie al tuo lavoro, è diventato un laboratorio, modello per tante altre comunità che stanno muovendo i primi passi in questo senso. Sì, il Web Marketing Festival, che ormai è diventato un evento internazionale, uno degli eventi di riferimento sul digitale, aveva iniziato un percorso molto simile al nostro, di digitalizzazione per la comunità, però ha apprezzato tanto l'approccio proprio di contaminazione, di percorsi comunità. Per questo abbiamo iniziato, ecco, una collaborazione. Oggi Anima è in pieno un partner di Habitat del Web Marketing Festival, con un team, siamo stati nella scorsa edizione, saremo protagonisti nella prossima, proprio per raccontare queste pratiche. Ed è bello perché è un evento ormai internazionale che si mette alla pari di una start-up ancora piccola che sta crescendo e dice costruiamo insieme un percorso diverso per queste comunità. Quindi ecco, anche in questo caso, il digitale, l'innovazione, aiuta ad accorciare anche questo tipo di distanze. Massimo, io ti ringrazio davvero tanto per la bellissima esperienza che hai condiviso con il nostro pubblico da casa. Stanno arrivando i saluti da un po' tutta Italia, poi recupereremo anche le altre immagini che stanno arrivando. Grazie alla tua esperienza voglio salutare anche i tanti cervelli in fuga che sono lontani dalle proprie città d'origine e si stanno formando e stanno lavorando per le comunità dove adesso si trovano. Magari tanti cervelli in fuga che poi in questo periodo ritornano, per cui se avete delle belle storie da raccontare, contattateci perché ci farà assolutamente piacere accogliervi come abbiamo accolto stamattina Massimo per ascoltare anche le vostre storie. Io nel frattempo ringrazio ancora Massimo Ciuffreda, vi invito a seguirlo sui suoi canali social Instagram, Facebook e seguire i canali, il sito web di cui abbiamo fatto riferimento qualche istante fa, Anima Living Network e ti do un caro augurio di buon anno, siamo sicuri che anche il 2023 sarà ricco di progetti e quindi già da adesso ti facciamo l'invito a ritornare fra qualche tempo a raccontarci quello che è successo nel frattempo. Sarà un piacere, auguri a tutti i telespettatori. Grazie Massimo, linea alla regia, noi ritorniamo tra qualche istante.